Nostro classico speciale dei campi del circolo tennis Francavilla con Stefano Travaglia. Ciao Stefano, ben rivisto. Ciao, domani giocherai i quarti di finale. Oggi piuttosto facile la giornata per te contro Zeppieri che ha avuto un problema, però stiamo rivedendo il miglior Travaglia? Sì, diciamo che ecco da ieri che ho giocato il primo turno, un primo turno difficile contro Andrea Pellegrino. Ci conosciamo bene, quindi non è mai semplice giocare. Ho giocato un buon tennis, non il mio miglior tennis, però ho acquistato fiducia e oggi sono entrato in campo ed ero molto più solido e al di là che il mio avversario si è ritirato e gli auguro una pronta guarigione. Ho fatto degli ottimi game sia in servizio che in risposta e sicuramente sono stato molto più solido di ieri e ho acquistato fiducia per il prossimo turno che affronterò domani. Domani quarti contro le vincente tra Gaio e il suo avversario che stanno giocando, quindi nel momento in cui noi registriamo questo speciale non sappiamo dire. Gaio contro? Hernandez, Fernandez. Gli preferisci? Gli conosco tutti, quindi non lo so. Con Gaio ci ho giocato già due settimane fa. Sono due giocatori tosti, come ovviamente tutti coloro che giocano il torneo. Non ti saprei dire, ecco vedremo dai chi vince. Travaglia possiamo dire che è uno a questo punto dei grandi favoriti di questo torneo? Non me lo posso dire da solo, però dai speriamo. Sicuramente sto cercando di ritrovare il mio miglior tennis che ho espresso a fine dell'anno scorso a US Open e a inizio di quest'anno in Australia. Non è mai semplice avere una continuità in questo sport, anche perché ogni settimana c'è una rivincita, quindi tutti i giocatori sono agguerriti. Cerco ogni giorno di dare il massimo e ritrovare il mio tennis per vincere questo torneo o i tornei a venire per scalare la classifica. Un'ultima cosa ti chiedo Stefano. Due anni fa, la prima edizione del torneo da Francavilla, tra i favoriti c'eravate tu e c'era Cecchinato. Ve la siete vista a pari in semifinale. Poi Cecchinato ha fatto quello che ha fatto. Travaglia è pronto a fare questo salto? Si sente pronto? Penso che dietro il salto che ha fatto Marco, anche compagno allenamenti, dato che ce ne andiamo con lo stesso team, c'è un grande lavoro dietro, quindi sicuramente mi sento pronto. Come ho detto prima, devo ritrovare il mio miglior tennis, ma non è tanto quello, ma è la continuità, perché in questo sport devi avere molta continuità che ti permette di prendere fiducia e di avere risultati continui per almeno 3-4 mesi. e il resto poi si decide in campo. Romano Grillotti al mio fianco, dopo Stefano Travaglia, per parlare anche un po' di arbitri, non nel tennis, perché qualche partita tra i professionisti? Buonasera intanto, l'arbitrata, no? Penso proprio di sì, diciamo come si usce a fare, si menzionano i match quelli basati più sul nome che sulla effettiva pratica professionistica del tennis. Penso che il match più importante dal punto di vista dei nomi sia una finale di A9-2002, tra San Pras e Agresi, rispettivamente 1 e 2 del mondo. Per gli italiani è rimasta nel ricordo generale di tutti la finale di Roma, Federer-Nadal, dove Federer per la prima volta a Roma si trovava 4-1 al quinto ed è riuscito a perdere un'altra volta. Per me la finale che mi ha impressionato di più, dopo aver fatto anche un paio di Olimpiadi, è stata sicuramente quella di Hamburgo, tra Safin e Kürten. All'epoca si giocava ancora meglio di 5-7, una partita di circa 6 ore. Dal mio punto di vista la prima partita che ho arbitrato. Diciamo quindi che scherzavamo quando dicevo qualche partita l'arbitrata, perché l'arbitrata è oltre 8.000 tra i professionisti. Penso proprio di sì, dal 1984 al 2013, quando ho smesso, nel 2010, facciamo una media di 350 all'anno. Penso proprio di sì. A questo Fognini è piaciuto a Monte Carlo? Fognini a me è piaciuto sempre, fin da bambino, quando l'ho abitrato parecchie volte, quando gioca a tennis. È un po' meno simpatico quando va oltre le righe. Pertanto, comunque la vittoria di Monte Carlo è significativa, vuol dire che il ragazzo come tennista c'è e come comportamento magari dovrà migliorare ancora un po' in futuro. Come si chiama il suo collega arbitro, molto amico di Fognini, con cui c'erano questi siparietti, Pascal, non ricorda? Sì, Maria Pascal. Sì, ho avuto i sipariati un po' con tutti, l'ho avuto con Mohamed Laiani, e l'uso è solito fare dei sipariati con gli arbitri, ma me lo sono trovato due anni fa in Australia, dove vado ad arbitrare, vado a valutare gli arbitri, e anche là ha preso una multa, pensavo che fossi io, è simpatico perché poi dopo gli ho spiegato che io valuto l'arbitro e devo fare la descrizione di quello che è successo nel match. Se poi lui vuol fare il protagonista in quei casi, viene coinvolto senza ombre di dubbio, poi quando mi vede magari a Montecarlo, vado all'arbitro e dice potresti far allontanare quel signore? Ma è in modo scherzato, in modo scherzoso. Chiudiamo, Romano, qui a Francavilla con quale ruolo? Francavilla sono un referee, perché sono un giudice arbitro, il supervisor del Carmelo di Dio, io sono il referee di giudice arbitro, c'è un capo degli arbitri, e se non tornei ormai di livello internazionale, ci sono tutte figure che magari tornei minori non si trovano. E naturalmente non può mancare il direttore del torneo Luca Del Federico per fare un po' un quadro di questo giorno di festa, giovedì 25 aprile, io ho visto subito spalti gremiti, quindi il torneo tira, tira alla grande, che giornata è stata Luca? Ben ritrovato. Buonasera a tutti, una giornata con un pubblico da Budapest, da torneo 250 ATP, oggi abbiamo avuto problemi con la biglietteria che ha fatto il sold out, molto molto bene, un pubblico che merita veramente forse un torneo ancora più importante. Alt, ti interrompo Luca, prima dei risultati, quindi stai pensando in grande per il 2020? Ma guarda, c'è un nuovo 250 nel 2020, potremmo essere noi, no? No, 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 non è una battuta, l'ha detto, è 250 qui, così avremo Fognini, avremo tutti quanti. Un 250 in Italia che andrà, si vocifera Monza a sostituire Antaglia sull'Erba. Quindi non c'è speranza di portarlo qui? No, no. L'abbiamo provato. Che giornata è stata oggi? Giornata al mattino molto bella con incontri importanti, seguo un attimo sull'Escore ATP i risultati di oggi. Abbiamo avuto un match molto avvincente proprio al mattino alle 10 fra Marta R. e Watutin, vinto dal giocatore tedesco al terzo. La testa di serie numero uno resta in corsa. La testa di serie numero uno resta in corsa. Stava rischiando grosso la testa di serie numero otto lo svedese Imer. Michael, il fratello del più famoso giocatore svedese. E ha avuto la meglio dopo ben tre ore di gioco con il russo Kotov con un 0-6 6-4 7-5. Partita veramente molto molto combattuta. Peccato per il giovanissimo giocatore che ha vinto gli Australian Open Junior Musetti. Ma Lorenzo Musetti era partito molto bene, era in vantaggio il primo 5-2 e poi dopodiché forse si è pagato un passaggio a vuoto. Anche la giovane età ci può stare di fronte a un Brichich molto molto determinato un giocatore veramente difficile da incontrare e per poi vincere per l'appunto 7-5-6-3. Comunque un giocatore di 17 anni ci può stare. Si farà. Si farà. Non temiamo nulla per il campione un giovane campione italiano. Abbiamo ascoltato poco fa Travaglia che è andato avanti per l'infortunio di Zeppieri ma comunque mi sembra di vedere un Travaglia ritrovato. Stefano ha fatto un bel match un bel primo set poi il giocatore Zeppieri ha avuto un infortunio già c'era qualcosa ieri perché c'era stato il ritiro nel doppio anche per precauzione e alla fine ha deciso di ritirarsi Stefano Travaglia è andato avanti domani in quarti di finale insomma l'augurio anche per la vicinanza della città da dove viene Stefano che è a Scolipiceno molto vicino all'Abruzzo e di averlo in finale domani che venerdì ci attende di quarti? Domani abbiamo i quarti a partire dalle 11 del mattino con quattro incontri quarti di finale e due incontri di semifinale in doppio con il match clou che è previsto per le 5 del pomeriggio fra Stefano Travaglia e il vincitore fra appunto Hernandez e Gaio che stanno giocando mentre noi registriamo questo speciale allora Luca io ti ringrazio ho provato a tirarti fuori lo scoop del 2,50 del prossimo anno me l'ho dato sì ma io lo volevo qua in Abruzzo però eh ma in Abruzzo c'è tanto da lavorare ci proverai? però sì se ci aiutano sponsor le istituzioni siamo prontissimi con Marcello Marchesi nella MEF però ti ho dato un gossip notevole perché ti ho detto che Monza quasi sicuramente andrà a sostituire Antalya nella settimana prima di Wimbledon sull'erba quindi per le amici appassionati retta ho fatto un bel gossip va bene perfetto noi ci fermiamo qui grazie ad Alberto Capo che ha curato la parte tecnica dei campi del circolo tennis e Francavilla l'appuntamento è sempre a domani con i nostri speciali per raccontarvi i quarti di finale ciao